Sono iniziati gli esami per i ragazzi che frequentano gli istituti superiori e come sta andando qui a Liceo Classico? Vabbè sta andando bene, abbiamo iniziato tranquillamente, i ragazzi hanno cominciato la produzione delle tracce che hanno scelto, e tracce che in qualche modo ci aspettavamo. Gli autori che sono stati scelti quest'anno sono Pascoli e Verga, che quindi sono proprio gli autori della nostra tradizione, gli autori che sicuramente si sono studiati. Quindi i ragazzi, volendo fare un'analisi del testo, la possono fare tranquillamente. Per quanto riguarda le altre tematiche, anche quest'anno il Ministero ha scelto delle tracce, non dico abbordabili, però tracce su cui i ragazzi hanno riflettuto in questi anni, perché si parla di cambiamenti climatici, si parla di costituzione della terra, quindi di diritti uguali per tutti i popoli della terra, le nazioni della terra, si parla di globalizzazione, si parla di internet e quindi le modalità con cui questo mondo virtuale va comunque utilizzato. Si parla di opportunità di nascita, nel senso che, con la segre, cioè essere nati in un mondo piuttosto che in un altro, in una nazione piuttosto che in un'altra, in una razza piuttosto che in un'altra, segna comunque il nostro destino. Ripeto, sono tracce tutte molto belle che i ragazzi sicuramente riusciranno a svolgere, perché sono tematiche che abbiamo trattato, che continuamente si trattano, che loro comunque ascoltano anche attraverso i media, anche semplicemente sui social, perché queste sono tematiche veramente universali. Quindi, insomma, siamo sicuri che il ritorno alla prova scritta sarà un ritorno sereno. Non vediamo particolari, come direi, i ragazzi particolarmente nervosi, stanno scrivendo in maniera rilassata. Quindi questo significa che quello che hanno davanti è abbordabile.